Oggi ho provato per la prima volta a fare Scrap Walking e so che il risultato non è il migliore ma appunto è la prima volta e ho voluto fare questo mudane 50 che mi piace tanto il pennello è uno dei migliori, lo so, servirebbe l'inchiostro ma non all'inchiostro, quindi più avanti penso che lo cercherò poco magari lo temo e lo coprerò e ho usato questi sticker che ho stampato quindi ho scaricato da Pinterest Amore della Vita questo che è tipo un foglio per le ordinazioni ho cercato dei mood anni 50 ho trovato queste che sono bellissime e li ho attaccati con la colla poi ho cercato i migliori sticker che avevo in questo set che comprai su Aliexpress e ho scelto quelli che si abbinavano di più al mood del diner e della cucina in generale e ho cercato di dare una disposizione che poteva essere interessante si, guarda qua è brutta, ma lasciate stare e ho trovato a disposizione a dopo che vedrete fatemi sapere se il risultato vi piace come finale e fatemi sapere anche nei commenti se avete delle richieste di qualche qualche ispirazione, qualche mood e consigliatemi anche dei prodotti che posso utilizzare che posso trovare anche a poco e via dicendo ecco, questo è il risultato finale spero che vi piaccia ci vediamo al prossimo video ciao